eccoci e bentornati sul mio canale ragazzi oggi un'inquadratura un po' improvvisata perché si è rotto frente il supporto della mia videocamera volevo augurare a voi alle vostre famiglie un sereno natale ringraziandovi per tutto il supporto e l'affetto che mi date ogni giorno grazie veramente di cuore tantissimi auguri oggi non uscirà un video informativo su call of duty oggi massimo riposo ragazzi oggi staremo con le nostre famiglie mangeremo a più non posso passate sul mio profilo di instagram perché sto riportando tantissime immagini delle mie feste natalizie quindi cibo regali e quant'altro quindi passate sul mio profilo instagram di cui trovate il link in descrizione ci vediamo domani a santo stefano per un nuovo video informativo su call of duty ho tantissime novità di cui parlarvi tantissimi auguri a voi ragazzi un bacio grandissimo e mangiate a più non posso